5, 6 e 8 settembre, queste le date del Festival della Psicologia che si terrà a Montesilvano al Palan di Martin. Come è nata questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce dalla volontà di avvicinare la psicologia alle persone perché negli anni abbiamo riscontrato che c'è tanto bisogno di psicologia, tanto bisogno di psicologi però siamo ancora forse un po' lontani dalla cittadinanza. Molti ancora ci vedono come qualcosa legato alla patologia mentre noi lavoriamo anche tanto con il benessere delle persone e quindi abbiamo pensato di fare questa azione di promozione. Di questo si tratta, cercheremo in questi tre giorni di avvicinarci alle persone, di dialogare con loro, di scoprire quali sono le loro difficoltà, i loro desideri e di farli sperimentare che cos'è la psicologia in modo leggero senza stigmatizzare troppo la patologia. L'iniziativa è nata in piccolo e essendo la prima edizione è un po' una data zero. Se il pubblico risponderà in maniera adeguata noi andremo avanti e la ripeteremo sicuramente anche molto più in grande già l'anno prossimo. Quest'anno invece abbiamo deciso di contattare alcuni colleghi, altri si sono presentati da soli e saranno tanti gli eventi, tratteremo vari temi dalla genitorialità, alla sessualità, all'ansia, all'autostima. Insomma, è un'iniziativa molto ricca.